Prima di alzare un paziente che sta seduto, gli dobbiamo posizionare in maniera corretta i piedi in modo che abbiano una buona base d'appoggio. Poi con i nostri creeremo una barriera in modo che non possano scivolare in avanti e con le nostre ginocchia fisseremo le sue. Attireremo poi il paziente a noi in modo che con il nostro peso lo aiuteremo a sollevarsi. Dovremo quindi proiettare indietro il nostro baricentro e non tentare di sollevarlo con la forza delle braccia. Una volta in piedi aspetteremo almeno un minuto prima di allontanarci dalla sedia in attesa che i riflessi ortostatici si siano riequilibrati.